Mi sento sempre questa zona piena, c'è il catarro, come qualcosa di fermo lì che c'è, ogni tanto c'è un po' di catarro eccetera. Certo, è una tosse che in qualche modo la mia vita l'ha condizionata, l'ambiente circostante con lei dura sicuramente qualche minuto e poi si esaurisce da sé, cioè non c'è nulla che io possa fare o per prevenirla, quindi quando sento che sta a prevenire, sì a volte con un po' d'acqua riesco a, però diciamo io non riesco a, cioè quando c'è io devo tossire, probabilmente perché c'è questo problema di reflusso, quindi per me cambiare posizione, quindi insomma io evito di chinarmi, ha un impatto psicologico, a me mi distrugge la spirometria perché mi distrugge vedere un risultato così deludente. Quando ho proprio scoperto che non ce la facevo più mi hanno dato l'ossina, vengo, faccio la fisioterapia in due o tre settimane e poi mi fanno tutti gli esami, se c'è da cambiare la cura si cambia, se no si rimane così. Per avere l'accompagnamento forse devi arrivare lì stesa, sdraiata, morta, quindi niente, cioè per noi c'è veramente poco, ecco. La BCO direi che non si è aggravata, è rimasta sempre allo stesso stadio, non ha avuto degli aggravamenti, a parte alcune crisi, ho avuto poi un paio d'anni fa una brocco polmonite, quella sì, quella sì ha veramente messo, mi ha messo proprio in allarme, è stata brutta però dopo che ne sono uscita, ci sono dei momenti in cui respiro con più fatica, ecco.